Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Signore! Fa che per l'intercessione dei Tuo Santi e in particolar modo di San Macario di Gerusalemme, l'umanità ritorni alla pratica della fede cristiana per una nuova evangelizzazione di questo terzo millennio, a lode e gloria del Tuo nome e il trionfo della Chiesa. Amen. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.